Siamo al crew, eh? Vai, vai! Siamo al crew. L'altro giorno... Apri, apri? L'altro giorno questo ragazzo è venuto in aereo. Sai che ti ho detto che c'è il tuo compleanno? Voglio vederlo. All'altro stesso tuo aereo, no? Cioè, guarda, folle, è partito da Napoli, povero. È arrivata la popolazione. Quando ti arriva è il telefono. E io dice là. Ma io non lo so perché... Ma Claudio... Oh! È la miseria. Oh! Ma che fissi da quello che tu hanno avuto fatto? Questa è molto grande. Ma siamo in preno dentro. Ma siamo in preno dentro. Perché, giustamente, tu adori il bianco e il nero. A filo. Aspetta, adesso... Fa' vedere? Wow! Non mi sape di far vedere. Non mi sape di far vedere. Non mi sape di far vedere. La proteglia. Oh! C'è la voce di nero. Sì. Sì, c'è la voce di guarderai. Guarda, io ho preso il bianco, gli scritti. Che leggerai, eh? Certo. Ma si deve... E poi, le magliette bellissime, le foglie. Ma che cosa c'è? Cioè, quello di Rossetto. Forse che... Ma il Johnny è il bianco, vero? Ma il Johnny è il bianco. 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 Questo quando si è il sabatoio, ti portarà ancora il mare. E il mare esisterà ancora. C'è quella... che bello che stupendo felice vabbè felice siamo tutti come te io sono anch'io felice grazie infinite ci vediamo a Lampedusa da qualche altra parte si tanto verrà adesso poi li metto l'ora così rinnoviamo gli orologi grazie infinite